Salve a tutti, benvenuti alla rassegna stampa quotidiana realizzata da me e dalla mia collega Paola Pentimella Testa, oggi è il 17 novembre e parleremo di Israele e Palestina, dell'Afghanistan dei talebani e degli elementi intensivi finanziati in Italia, finanziati proprio dallo Stato. Notizia numero 1. L'Assemblea plenaria delle Nazioni Unite, lo scorso 11 novembre, quindi qualche giorno fa, ha approvato una risoluzione che chiede alla Corte di Giustizia Internazionale di indicare se l'occupazione israeliana in Cisjordania sia da condannare come annessione illegale. La mozione è stata presentata dal Nicaragua ed è stata approvata con 98 voti a favore, 17 contrarie e 57 astenuti. Poi entro la fine dell'anno dovrà passare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che è composta da 193 paesi e dove è praticamente certa la sua approvazione perché fino adesso le risoluzioni del genere sono state sempre approvate. La cosa che sorprende sono come hanno votato i vari paesi, perché hanno votato a favore, scusate, hanno votato contro gli Stati Uniti, cosa che hanno sempre fatto, il Canada, la Repubblica cieca, la Germania, l'Australia, l'Austria, l'Estonia, il Guatemala, l'Ungheria, la Liberia, la Lituania e l'Italia. Cioè l'Italia del nuovo governo ha votato contro una risoluzione in cui si condanna l'annessione di pezzi di territorio della Cisjordania da parte di Israele. Diciamo che per l'ennesima volta l'Italia, oramai da molti, per l'ennesima volta da tre decenni a questa parte, l'Italia sta mostrando totalmente spiaccicata, spiaggiata sulle posizioni di Israele. E poi ci sono i paesi che sono astenuti, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi, Norvegia, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizia, Regno Unito. Allora, come vedete, tra chi è contro e chi si è astenuto praticamente c'è tutta Europa. Cioè l'Europa che in questo momento si è assoggettata alle politiche americane sull'Ucraina è tutta quanta in questo momento sempre fedele agli Stati Uniti e ha votato in qualche modo a favore di Israele. E poi ci sono quelli che hanno votato a favore, cioè quelli che dicono sì, in effetti questa occupazione sarebbe illegale. E tra questi c'è la Polonia, l'Irlanda e l'Ucraina. Allora, perché l'Ucraina ha dato questo voto? Teoricamente dovrebbe essere schierata, come fa oramai da un per esempio a questa parte, con gli Stati Uniti d'America. E invece no. Allora, tant'è che il ministro degli esteri israeliano ha comunicato che intende convocare l'ambasciatore ucraino in Israele, Yevgen Korninchuk, per una formale reprimenda. Allora, il punto è che Israele, che ha votato contro la Russia a favore dell'Ucraina in ogni votazione nelle Nazioni Unite all'inizio della guerra, in realtà si rifiuta di spedire le armi a Kiev. E questo l'Ucraina, con questo voto, gliel'ha fatto ampiamente notare. Tutto ciò farà cambiare posizione a Israele? Non credo. Però, come vedete, ogni paese poi deve gestire la propria politica estera e spesso il mondo, quando dico che è complicato, è complicato anche per questo motivo, perché si intrecciano interessi differenti che poi si vanno a sovrapporre, in qualche modo. Il Diciamo, la Corte di Giustizia delle Nazioni Unite, i pareri che dà non sono vincolanti, ma se deciderà in favore della risoluzione, della mozione che è stata appena fatta e della risoluzione che ne risulterà, tutto questo contribuirebbe a rafforzare le rivendicazioni dei palestinesi all'audiodeterminazione e alla fine dell'occupazione coloniale israeliana, decretando come palestinesi tutti i territori Cisgiordania. E sarebbe pure ora, perché appunto le occupazioni, non ci sono solamente le occupazioni che ci interessano a noi, o meglio che interessano a Washington. Notizia numero due, come sapete in Afghanistan l'anno scorso gli Stati Uniti e quindi se lo fanno gli Stati Uniti tutte le truppe dei paesi occidentali, perché appunto noi obbediamo solamente a loro, si sono ritirati, fino agosto dell'anno scorso si sono ritirati all'Afghanistan, in maniera peraltro rocambolesca, in maniera orribile, però insomma l'hanno fatto, l'hanno fatto in seguito a un accordo, non è che sono stati cacciati via, si sono proprio accordati con i talebani, dicendo noi ci togliamo dalle scatole, però in cambio voi rispettate le regole che noi abbiamo messo fino adesso ai diritti umani. Come non si sa che una volta che si insedia un nuovo governo, poi bisogna vedere se queste regole le rispetta, se i fatti le rispetta, nella maggior parte dei casi no, e infatti è quello che è esattamente successo. Allora il leader politico e religioso e terzo comandante supremo dei talebani, si chiama Maulawi Haibatullah Akunzaja, ha imposto l'obbligo ai giudici afghani di applicare la sharia annunciando la cosa su Twitter, perché perfino i talebani oramai annunciano cose su Twitter. Però questo passaggio di applicazione della sharia, quindi la legge islamica in Afghanistan, non è il primo passaggio in questa direzione che fa il governo dei talebani, perché in realtà dai mesi successivi, anche se c'è una violenza inferiore, i talebani hanno governato per 5 anni dal 1996 al 2001, l'Afghanistan portando un terrore quasi senza precedenti in quel paese, è stato un governo violentissimo, la violenza è inferiore, c'è, però è inferiore rispetto all'epoca, cercando in qualche modo di mantenere una certa immagine, ma comunque il regime ha dato una stretta nei mesi passati ai diritti umani, ai diritti civili, specialmente nei confronti di donne e oppositori. In più le donne già non possono più lavorare nella maggior parte dei settori e necessitano di un tutore maschio per spostarsi su lunghe distanze. Non so se è chiara la cosa. E poi il ministro della moralità, perché in Afghanistan oggi c'è un ministero della moralità, la scorsa settimana ha vietato alle donne di accedere ai parchi pubblici di Kabul, alle palestre e ai bagni pubblici. Cioè, una donna non può entrare in un parco pubblico. Allora, l'Occidente mantiene sotto sequestro tutti i beni che i talebani hanno in giro per il mondo, come diciamo nella speranza che mantengono la loro parola, però evidentemente dico i beni e i talebani, gliene frega niente perché continuano ad andare avanti, grazie anche a un accordo fatto con noi, siamo noi che gli abbiamo permesso di governare. Notizia numero 3. Allora, in Italia i soldi pubblici stanziati in nome della sicurezza alimentare, ma dai bene, per che cosa vengono stanziati questi fondi pubblici? Vengono investiti invece anche a favore degli allenamenti intensivi che ovviamente inquinano tanto, molto più degli altri allenamenti e non assicurano il benessere animale, anzi sono stati indicati da tutte quante le associazioni ambientaliste e animaliste come dei veri propri lager, oltre al fatto che producono cibo ovviamente di qualità molto molto più scadente, in alcuni casi anche dannosa. Chi ha scoperto questa cosa? Beh, Greenpeace Italia. Greenpeace Italia ha diffuso una mappa degli allevamenti che in particolare ha mostrato come in Pianoma Padana ci sia una sorta di zona rossa che rappresenta più o meno la metà delle aziende di allenamenti intensivi in Italia finanziati dallo Stato, appunto lo Stato italiano e per fare questo...